Iscriviti al canale per non perdere altre notizie sul mondo del gossip, in seguito ad approfondite indagini mediche, Giorgia Meloni è stata dichiarata in uno stato di salute positivo, dissipando così le iniziali apprensioni. I risultati degli esami hanno placato le preoccupazioni dei medici specialisti riguardo al suo benessere fisico. Tuttavia, in maniera precisa, i dottori le hanno consigliato di evitare situazioni stressanti e le hanno imposto di non lasciarsi coinvolgere emotivamente in questioni politiche nei prossimi giorni. Si ritiene che un ambiente sereno favorisca una guarigione rapida, pertanto è stata raccomandata a Meloni la dedizione di tempo al relax e al riposo. Questa prescrizione mira a garantire un recupero ottimale e a ridurre qualsiasi pressione aggiuntiva sulla sua salute. Senza dubbio, la sua vita privata ha contribuito a un forte stress per Giorgia, la quale è stata sottoposta a una notevole pressione mediatica. I sostenitori e i leader politici augurano a Giorgia Meloni una pronta e completa guarigione nel rispetto delle indicazioni mediche.